Un solo contagio nella giornata di ieri è stato comunicato nel report del comune di Agropoli e 20 cittadini guariti dal covid-19. Di concerto con l'asla è stata effettuata una ricognizione complessiva dello stato dell'arte attuale rispetto al virus nella nostra città, fa sapere il sindaco Coppola. È risultato un nuovo caso di positività al covid-19, ma è il dato interessante che risultano ben 20 guarigioni, stato di cose che porta il totale di casi attualmente positivi a 19, mentre il dato di guariti dall'inizio della pandemia sale a 138. Una situazione che ci rallegra, raccomando di continuare ad osservare le prescrizioni anti-covid, sottolinea Coppola. Come vedete, con l'impegno di tutti, si riescono a raggiungere risultati che diversamente neppure potremo immaginare. Due nuovi casi positivi invece registrati nel comune di Castellabate nella giornata di ieri. Si tratta di persone già in isolamento perché contatti stretti di casi precedenti. Inoltre, oggi abbiamo due nuovi guariti, sottolinea il sindaco facente funzioni Luisa Maiuri. Nel report precedente era stato trasmesso un caso che erroneamente era stato inserito tra i positivi di Castellabate, ma che invece rientra in altro comune. La situazione attuale dunque nel comune cilentano è la seguente, 106 persone positive al covid e 53 cittadini guariti. Per fortuna, i dati cominciano a dirci che la curva dei contagi si sta stabilizzando, sottolinea la Maiuri, e che gli stessi sono circoscritti ai nuclei familiari già in isolamento. Nella giornata di oggi vi comunicherò gli eventuali e graduali allentamenti che si valuterà di poter fare a partire dal 7 gennaio. Devo raccomandarvi, e continuerò con forza a farlo, di rispettare il contenuto dell'ordinanza numero 69 e le misure in essa contenute, conclude della Maiuri. Abbassare la guardia ora sarebbe vanificare tutti i sacrifici fatti finora. Anche nel comune di Capaccio Pestum, due sono i cittadini positivi registrati nella serata di ieri, che portano a 40 positivi attuali, con 86 persone in isolamento e 263 guariti totali.